Vabbè, domande di qualsiasi genere, tipo, potete fare tranquillamente se non c'è niente. Allora oggi cerchiamo di rispondere, di parlare dei cibi sacrificati agli idoli. Quindi se non c'è qualcuno che vuole testimoniare, dire qualcosa, eh, vi do sempre la precedenza perché così è il Signore, no, a scegliere quando l'argomento viene, così siamo sicuri che il Signore vuole che si parli di quell'argomento. Però anche questa è una domanda che mi è stata fatta e quindi oggi volevo leggere insieme a voi qualche passaggio che riguarda appunto i cibi sacrificati agli idoli. E' bene parlare di cibi non solo di carni, eh, perché i cibi agli idoli possono essere, ai vari dei, no, di questa terra possono essere sacrificati anche, anche, non solo le carni, ma anche altri tipi di cibi. Quindi è bene sapere che, eh, è bene sapere che ci sono dei cibi sacrificati agli idoli. Ora, questo magari lo sanno in tanti, però il problema qual è? Il problema è, ma, eh, che ci sono questi cibi sacrificati agli idoli, va bene, ma come dobbiamo fare, cosa, cosa dobbiamo fare? Cioè, li dobbiamo mangiare, non li dobbiamo mangiare, quindi per togliere queste problematiche oggi appunto volevo parlare di questo, di questo argomento con voi. E cominciamo, cominciamo dalla fine, cioè cominciamo dalla conclusione finale. Cosa vuole il Signore riguardo ai cibi sacrificati agli idoli? Prendete le vostre Bibbie e apritele al capitolo 15 di Atti degli Apostoli. In Atti degli Apostoli, al capitolo 15, si parla di una conferenza che c'è stata tra tutta la Chiesa. Innanzitutto voglio dirvi che la conferenza c'è stata tra tutta la Chiesa, non solo da alcuni scelti, eh. Questo perché? Perché quando ci sono argomenti che riguardano tutta la Chiesa, è giusto che tutta la Chiesa debba partecipare. Così uno sente direttamente oppure può anche partecipare, perché basta aspettare il suo tempo, si può, e tutti possono dire quello che sentono, che pensano, quello che Dio gli ha rivelato, quello che sentono nel loro cuore. E' chiaro che il fatto che tutti siano liberi di parlare non vuol dire che uno è libero di dire cose che o non c'entrano niente o parlare, però sempre con sapienza, eh. Comunque per tornare al nostro capitolo 15, va bene, il cristianesimo è visto dal giudaismo perché setta vuol dire è una nuova via, capite, una via che è una via diversa che si sceglie da quella precedente. Quindi fondamentalmente la parola setta potrebbe anche non avere in certi casi un senso negativo. Nel nostro caso che sia il cristianesimo che è una setta, una divisione, un ramo, diciamo, che spunta dal tronco che è il giudaismo, ecco, si può anche ritenere in questa maniera il cristianesimo. Però nel periodo, e potrebbe esserci anche adesso, ma nel periodo quando è nato il cristianesimo, e nascendo appunto dal giudaismo, all'inizio, all'inizio c'erano dei credenti che, dei giudei appunto, che avevano creduto, che praticamente si erano posizionati in mezzo, cioè, erano stati salvati per mezzo della grazia, però dicevano, vabbè, ma osserviamo anche la legge. Poi c'è anche l'epistola dello scrittore agli ebrei, che lo scrittore agli ebrei, che praticamente, siccome c'erano gli ebrei che avevano creduto ed erano stati salvati per grazia, mediante la fede nel sacrificio che Gesù Cristo ha compiuto, però a un certo punto, per non essere perseguitati, per non soffrire, per non morire, a cagione del nome di Gesù Cristo, si stavano, diciamo, stavano rinnegando la grazia per tornare a osservare i precetti della legge. Ecco, per bloccare questa cosa è stata scritta la lettera agli ebrei, per bloccare, appunto, questo rinnegamento della grazia, per tornare a osservare i precetti della legge. Quindi, appena è nato il cristianesimo, nei primi tempi, praticamente, c'era questa problematica. Perseguzione dei giudei, e cercavano alcuni che erano dentro la chiesa di imporre anche l'osservanza della legge. Cioè, sì, siete stati salvati per grazia, però bisogna osservare anche la legge, no? Bisogna far circoncidere, bisogna... E quindi si era fatta questa conferenza. Si erano messi, si erano incontrati per dibattere questo problema che doveva valere per tutti, sia per i giudei che per i gentili. Quindi bisognava trovare una soluzione che andasse bene anche per tutti, insomma. Cioè, praticamente, la chiesa, nascendo in quel periodo, praticamente, dovevano decidere cosa facciano. Quindi pregavano, chiedevano al Signore, e si incontrarono, dibatterono la cosa, e alla fine uscì fuori il risultato. Il risultato che lo leggiamo, lo leggiamo, lo leggiamo da capitolo 15, dal versetto 22. No, leggiamo dal versetto 19 di Atti degli Apostoli, capitolo 15, versetto 19. Per la qualcosa io giudico che non si dia molestia a quelli dei gentili che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate e dal sangue. Poiché Mosè, fin dalle antiche generazioni, ha chi lo predica in ogni città, essendo letto nelle sinagoge ogni sabato. Poi andando avanti c'è scritto al versetto 23, al versetto 24, poiché abbiamo inteso che alcuni partiti di fra noi vi hanno turbato con i loro discorsi sconvolgendo le anime vostre, benché non avessimo dato loro un mandato di sorta. «E' parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere degli uomini e di mandarveli assieme ai nostri cari Barnabà e Paolo, i quali hanno esposto la propria vita per il nome del Signor nostro Gesù Cristo. Vi abbiamo dunque mandato giù da Isila, anch'essi vi diranno a voce le medesime cose, poiché è parso bene allo Spirito Santo e da noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione, dalle quali cose farete bene a guardarvi, state sani». Quindi ai gentili e a tutti, tutti comunque, vennero a sapere dopo questa conferenza che per quanto riguarda la circoncisione, l'imposizione della legge e le altre cose, ecco, le cose che erano necessarie prenderle dalla legge e trasportarle anche sotto la grazia affinché fossero osservate, c'erano anche queste cose, queste quattro cose, che sono di astenersi dal mangiare le cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate, ecco, anche questo, dagli animali soffocati. tenete conto che noi quando andiamo a comprare, alcuni di noi ormai credo, anzi forse tutti, andiamo a guardare di che cosa è composto, se è genuino, non è genuino, va bene, questa parte va bene perché a uno non piace l'olio di palma, l'altro invece sì, insomma, uno si sceglie i prodotti che vuole, va bene? Queste scelte, questo tipo di scelte sono giuste. Che cosa diventa pericoloso però? Diventa pericoloso per dire cercare dove nasce quel cibo, con quali rituali nasce, perché altrimenti potremmo andare a scovare certe cose che noi non mangeremmo più, capite? Potremmo arrivare al momento che non possiamo più comprare niente perché se facciamo delle indagini uscirebbe fuori che tutto è contaminato compriamo come dice anche Paolo andate al macello e comprate di quello che si vende senza fare inchieste bene, senza fare inchieste perché se facciamo delle inchieste per quanto riguarda diciamo le carni soffocate e per quanto riguarda i cibi sacrificati agli idoli se noi facessimo delle indagini troveremo cose che non ci convincono e non ci permetterebbero poi di mangiare di mangiare con convinzione ecco quindi la nostra coscienza ci accuserebbe quindi allora noi andiamo a comprare cerchiamo prodotti di qualità secondo come ognuno vuole però fate attenzione perché se vi mettete a fare indagini dopo voi se trovate qualcosa che non mangiate più con pienezza di convinzione e tenete conto che seppur ci fosse qualcosa di contaminato che voi ringraziate Dio non lo sapete ringraziate Dio e mangiate liberamente tranquillamente capite nel fare le cose noi dobbiamo essere pienamente convinti altrimenti la nostra coscienza ci accusa cioè se io non sono convinto di mangiare un cibo attenzione lì praticamente si pecca ecco dove potrebbe esserci il peccato quando la tua coscienza non ti lascia libero vuol dire che c'è qualche cosa che non va che questa qualcosa che non va da dove arriva quindi se qualcuno ti dice no quello è un cibo sacrificato agli idoli tu non lo mangi se te lo dicono non lo mangi c'è il dubbio non lo mangi capite poi andiamo a leggere i passaggi in prima Corinzi però intanto la conclusione è questa che i credenti comunque sia se sono a conoscenza perché la scrittura ci dice attenzione non fare tu inchieste altrimenti dovremo vivere la nostra vita facendo inchieste su tutte queste cose e non mangeremo poi nulla perché se andiamo a vedere c'è una contaminazione su tutto su tutto tutti i cibi che provengono dai musulmani tutti i cibi che avvengono dall'oriente che potrebbero avere diciamo qualcosa a che fare con le religioni orientali e tante altre cose capite cioè noi non facciamo noi non facciamo indagini però se lo veniamo a sapere che qualcuno ce lo dice perché magari ci invitano a mangiare andiamo a casa e ci dicono questo qui oggi ti faccio assaggiare questo bel cibo dedicato a Maometo o al Dio di qua Dio di là no? dategli voi un nome ecco se ve lo dicono lì non potete più sfuggire a questa situazione e quindi cosa dovete fare? perché la vostra coscienza poi vi accuserebbe attenzione e quindi non dovete mangiare no guarda se è un cibo sacrificato agli idoli io non non lo mangio cioè gli si spiega e non si mangia perché voi lo fate non tanto perché l'idolo sia qualche cosa ma perché dietro all'idolo ci sono lo leggeremo ci sono c'è uno spirito immondo e quindi mangiando voi mangiando un cibo sacrificato a quell'idolo di cui dietro c'è uno spirito si cerca di entrare in comunione con quello spirito perché noi quando mangiamo del prendiamo la santa cena no? prendiamo la cena del Signore e noi cosa facciamo quando prendiamo la cena del Signore? noi cerchiamo di con quel rituale con quei simboli entriamo in comunione con il corpo e con il sangue di Gesù Cristo capite? entriamo in comunione con il Signore e se si mangiano cibi sacrificati agli idoli cioè se si fa coscientemente allora si cerca di entrare in comunione con quel demon e non si può stare da tutte e due le parti capite? quindi se uno serve il Signore se uno vuole ama il Signore e vuole stare in comunione con il Signore deve cercare di non stare in comunione con i demoni e con gli idoli e con tutti quelli che sono lontani dalla verità e questa è la conclusione partiamo dalla conclusione e quindi per quanto riguarda i cibi che se risolviamo il problema del cibo noi risolviamo nella nostra vita una grande parte una grande parte perché il rischio quale sarebbe vivremo una vita schiava della ricerca del cibo capite? perché il credente deve rimanere libero non deve esserci niente che lo lega che lo domini e lo faccia comportare in un certo modo e gli faccia perdere tanto tempo se noi ci mettiamo a fare indagini sui cibi praticamente poi dopo una volta scoperto tutto dopo tempo scopriamo tutto e allora dobbiamo andare a ricercare quel cibo di qua quel cibo di là quel cibo lo fanno solo a Bologna questo cibo lo fanno solo qui il latte buono lo trovo solo a Palermo e che facciamo? non possiamo più bere non possiamo più bere latte non possiamo più mangiare non possiamo non possiamo fare niente noi ci riempiremo di guai saremo legati completamente alla ricerca del cibo capite? dobbiamo passare tutta la vita a cercare il cibo invece la scrittura cosa ci insegna? in pratica ci dice ci ordina che il cibo sacrificato agli idoli tu non lo devi mangiare così come non devi mangiare neanche il cibo soffocato dove lo trovo questo problema? dove devo scegliere io? se io vado a comprare un pollo una gallina dal contadino che ha sia prodotti agricoli ma anche magari uova e galline voglio comprare un coniglio voglio comprare una gallina ecco in quel caso cosa devo fare? come mi devo comportare? gli devo dire gli devo dire ascolta io ti compro la gallina io ti compro però attenzione a quella che dai a me la devi far morire in questa maniera cioè non la devi soffocare devi prendere il pollo per il collo lo schiacci fino a soffocare perché il credente è una l'abbiamo letto prima è una cosa necessaria che il credente non mangi non mangi le cose soffocate così come non bisogna mangiare i cibi sacrificati agli idoli e non si deve neanche mangiare il sangue capite e neanche il sangue quindi non dobbiamo mangiare i salsicciotti col sangue non dobbiamo mangiare i prodotti al sangue non si devono mangiare la carne si fa defluire tutto il sangue possibilmente ci sono degli accorgimenti in cui il sangue va via però se l'animale viene ucciso viene ucciso nella maniera corretta viene sgozzato e viene ucciso in questa maniera praticamente mentre muore il sangue tende ad uscire comunque esce una grossa parte cosa che invece non succede se viene soffocato quando un animale viene soffocato anche il sangue rimane tutto dentro quindi non defluisce cioè si solidifica si si diventa diventa un animale anche qualitativamente sento anche dire da fuori sento dire che anche la qualità dei cibi che non vengono sgozzati che non il sangue non esce fuori praticamente anche la qualità viene meno quindi sono molto più scarsi che conviene anche a chi li uccide insomma ucciderli facendo uscire il sangue perché il sangue e la vita dell'animale sta nel sangue no? allora la vita dell'animale si fa defluire e si dovrebbe versare cioè se lo uccidi tu devi fare così devi sgozzarlo e lo devi far defluire per terra e se ne deve andare il sangue ecco raccoglierlo e poi buttarlo dopo però non si può utilizzare in cucina non si può mangiare non si può perché è una cosa necessaria finché si può cibi soffocati se andiamo dal contadino glielo diciamo guarda a me quell'animale che ti compro me lo devi uccidere così quindi questo non fa male glielo dici e sei a posto o parteci anche tu guardi anche tu comunque glielo devi dire per evitare problemi quindi lì il problema si risolve rimane il problema di quello che bisogna comprare ai supermercati perché perché supermercati noi non sappiamo nulla ed è un lì ci sovviene che Paolo dice di comprare tutto quello che si vende al macello senza fare inchieste vedete quindi anche lì il Signore ci ha aiutato altrimenti sarebbero stati veramente dei guai perché avremo per ogni cibo dovuto fare delle ricerche continue quindi sarebbe stato veramente un legame molto forte molto molto duro da risolvere ogni giorno a colazione a pranzi a cena insomma avremmo dovuto vivere solamente cercando il mangiare che potevamo mangiare invece cosa è successo è successo che il Signore ci viene in soccorso e Paolo dice mangiate del cibo mangiate comprate di tutto quello che si vende al macello senza fare inchieste naturalmente però se andate a mangiare a casa di qualcuno e quello vi dice questo è il pane che abbiamo dedicato a Sant'Antonio e allora lì e no il pane di Sant'Antonio non lo voglio voglio il pane soltanto quello di Sant'Antonio lo mangeranno gli altri io non lo voglio perché così avete riguardo e poi gli spiegate no? gli spiegate ma guarda io il pane di Sant'Antonio lo mangio io mangio perché il Signore me lo vieta io sono un figliolo dell'idio altissimo che cerca di osservare i comandamenti di Dio e Dio mi ha vietato di mangiare i cibi sacrificati agli idoli perché non devo avere comunione con gli idoli non devo avere comunione con i demoni che ci sono dietro gli idoli io devo avere comunione solo con il Signore nostro Gesù Cristo e con il Padre quando prendiamo quando prendiamo la che adesso andiamo a leggere questi passi quando prendiamo la la cena la cena del Signore adesso leggiamo in Prima Corinzi dove si parla dei cibi sacrificati agli idoli allora intanto volevo dirvi questo che nella scrittura nella scrittura si parla di cibi sacrificati agli idoli ma si parla anche di cibi puri e impuri va bene quindi quando trovate questione no perché praticamente nella mia nel mio percorso di cristiano ho dovuto discutere tante volte anche di queste cose e una delle cose che ho potuto vedere che si faceva confusione era che si prendevano i passi mischiandoli con i cibi puri e impuri cioè i passi della Bibbia i passi delle scritture che discutevano dei cibi puri e impuri li mischiavano con quelli dove si parla dei cibi sacrificati agli idoli no non si può fare questa confusione cioè non si devono mettere insieme sono dei cibi diversi capite cioè sono delle questioni diverse più che cibi perché il cibo può essere lo stesso ma il cibo è lo stesso ma le questioni sono diverse sono due questioni diverse se si può mangiare il cibo puro o impuro dal fatto che invece si può mangiare i cibi sacrificati agli idoli ecco cioè mentre da una parte la scrittura ci insegna che i cibi puri e impuri non ci sono più perché Gesù ha decretato tutti i cibi puri perché non è quello che mangiamo noi che ci contamina non è quello che entra dentro la bocca che ci contamina però stiamo parlando nel senso dei cibi puri e impuri capite non si sta diciamo considerando anche i cibi sacrificati agli idoli bisogna distinguere le due questioni quando si leggono le scritture ci sono i passi che parlano dei cibi puri e impuri e lì si fa un ragionamento ma quando si parla dei cibi sacrificati agli idoli si devono fare altri ragionamenti si devono prendere i passi che rimano appunto i cibi sacrificati agli idoli quindi cibi puri e impuri non ci sono più praticamente distinzioni non ci sono distinzioni perché il Signore ha fatto tutti i cibi tutti i cibi li ha fatti puri capite ecco quindi qui si risolve subito davanti al Signore non ci sono più differenze tra cibi puri e impuri però per quanto riguarda quei cibi cosa si deve dire che ci può essere facciamo un esempio concreto un ebreo si converte a 80 anni va bene diventa credente non ha mai mangiato cozze non ha mai mangiato maiale perché ha sempre ritenuto per 80 anni che fossero contaminati e adesso sotto la grazia può succedere che anche se gli dici guarda che sotto la grazia Gesù li ha i cibi resi tutti puri ecco può accadere che lui dice no ma io non lo voglio mi sento male ecco quelle persone sono deboli da quel punto di vista cosa dobbiamo fare noi che quelli che sono maturi e che sono forti più forti spiritualmente non devono disprezzare la debolezza di questi fratelli deboli non bisogna disprezzarli bisogna venirgli incontro e capire le loro problematiche perché anche se quel cibo non è impuro e lo possono mangiare anche se lo possono mangiare noi lo mangiamo tranquillamente ecco per loro è impuro li contamina gli fa stare male se lo mangiano e sicuramente gli farà anche male vedere che voi li mangiate quindi se noi invitiamo a pranzo a cena un ebreo di 80 anni e non sappiamo diciamo che cosa mangia ecco dobbiamo considerare anche queste cose quindi cosa faremo noi gli faremo legumi gli faremo non gli presentiamo la carne di maiale non gli presenteremo le cozze le vongole perché loro non le mangiano no? gli ebrei non le mangiano queste cose oppure i pesci senza senza squame vedete dopo la situazione è così è così ampia è così anche difficile da da determinare bisogna avere la lista quello da mangiare e quello da non mangiare quindi i cosiddetti cibi puri e impuri però se noi ci troviamo a trattare noi sappiamo allora che possiamo mangiare tutti i cibi ma se ci troviamo ma non ci sono solo gli ebrei e ci possono essere anche i musulmani un musulmano che si è convertito a Cristo oppure lo invitiamo per annunziargli l'Evangelo lo invitiamo a casa noi dobbiamo portare il rispetto attenzione alle persone deboli va portato il rispetto dovuto quindi cosa faremo noi ad esempio i musulmani dicono di non bere vino io quel giorno non si mette il vino le bevande alcoliche non si mettono a tavola se io invito un musulmano credente o non credente che sia poi se lo conosciamo meglio e lui dice no io bevo vino mangio maiale tranquillamente e allora dopo accertate le cose ci si può muovere liberamente però l'obiettivo è sempre quello di non scandalizzare e di non turbare gli animi delle altre persone quindi stando attenti sempre all'altro l'obiettivo è considerare gli altri più di se stessi capite rispetto massimo per gli altri per non scandalizzare è questo che bisogna fare nella chiesa considerare gli altri più di noi stessi perché è così che si vince l'egoismo se no si pensa sempre a se stessi e agli altri cristianamente nella parola di Dio l'insegnamento che viene dato è questo che gli altri devono avere la preeminenza su noi stessi addirittura capite nelle cose buone però nelle cose lecite è chiaro stiamo parlando che gli altri ci possono trascinare nel peccato cioè i giusti limiti oltre un certo dovere non si deve andare però noi considerando gli altri considerando il debole considerando che ci possono essere persone fratelli o anche non credenti che possono turbarsi di un certo comportamento io mi premunisco e cerco di non turbare quindi se invito un musulmano cosa faccio non gli preparo il maiale mangiano la pecora gli preparerò la pecora gli chiederò che cosa mangiano come verdure come vogliono legumi se vogliono la pecora capite e si tolgo gli alcolici quel giorno io mezzo bicchiere di vino a pasto lo bevo sempre ma se mi rendo conto che ci possono essere problematiche l'alcol è una di quelle cose che deve sparire cioè capito bisogna sempre essere attenti vedete bisogna essere attenti alle esigenze degli altri perché siamo attenti ognuno alle esigenze debolezze dell'altro noi camminiamo tutti in modo migliore capite i fratelli noi dobbiamo conoscerli forse a volte il problema nostro è che non ci conosciamo sino in fondo se conoscessero magari le debolezze l'uno dell'altro a parte che preghiamo ma anche non ci sarebbe non ci sarebbero ci sarebbero meno possibile degli scandali perché perché l'obiettivo nella chiesa per avere comunione sempre quello di badare all'interesse altrui prima del nostro proprio e questo ci spingerebbe a comportarci in un tuo modo infatti se uno pensa solo a se stesso e non agli altri il comportamento è egoistico e porta prima o poi a una frattura porta a una discussione a qualcosa che non va bene e l'abbiamo vissuto l'abbiamo anche vissuto se uno pensa solo a se stesso si creano anche divisioni nella chiesa ci possono essere anche situazioni pesanti che purtroppo ci sono comunque noi tendiamo a vivere il cristianesimo il mio obiettivo è questo ve lo dico è trasmettere gli insegnamenti che sono nella scrittura però tenendo conto in modo particolare della misericordia che ci può essere nei comandamenti osservarli sì ma attenzione consideriamo sempre la misericordia e poi bisogna essere liberi nella propria coscienza cioè noi dobbiamo essere felici di essere cristiani liberi nel nostro cuore non timorosi di incontrare il fratello di ospitare il fratello perché vengono a giudicarmi capite bisogna essere liberi nel mangiare in quello che si fa entro i limiti del signore non è che io sono libero di vestirmi come voglio vado a trovare il fratello in pantaloncini corti e a petto nudo capite ci vogliono anche dei limiti però siamo liberi non stiamo a vedere il centimetro della gonna un centimetro o meno diamo l'esempio e aspettiamo perché se io ogni volta mi è una sorella gli vado a misurare tutte quante i centimetri della gonna diventa pesante chi viene più a casa mia capite e quello che succede purtroppo in certi punti in certe sette in certi luoghi succede in questa maniera vogliono apparire più santi poi vai a vedere dentro sono peggio degli altri quindi che cosa vai a vedere i centimetri agli anni e poi tu hai il cuore corrotto quindi è meglio evitare certamente non sto dicendo con questo che uno può andare in pantaloncini o in minigonna o scollati o a petto nudo non c'è anche qui però bisogna anche capire bisogna aspettare anche che ognuno maturi certi aspetti no questo per dirvi che nella chiesa si deve camminare osservando i comandamenti di Dio ma in libertà di cuore non per imposizione o timore che l'uomo mi veda capite l'uomo nel senso il ministro il fratello il conduttore il mi vedono quindi tu cosa fai quando non ti vede nessuno fai quello che ti pare quando pensi che ti vedano ti comporti in modo in modo così apparentemente santo no e io questo questa ipocrisia che combato e non voglio preferisco conoscere un fratello nelle sue debolezze così com'è perché così ci si può lavorare conosco le debolezze e ci si può lavorare nessuno lo condanna e cerchiamo di migliorarci ma se uno finge di essere e poi non è come facciamo ad aiutarlo se non ce lo rivela il Signore quindi in Cristo Gesù ecco perché considerando gli altri più di se stessi è un buon è una buona linea da tenere che lo insegna la scrittura non è che me lo sto inventando io è una buona linea da tenere per entrare in comunione con gli altri e stare bene in un gruppo di credenti se tutti fanno così il rispetto massimo per tutti quanti difficilmente ci si trova a disagio ecco trovarsi in un gruppo dove non si sente disagio non che si fa quello che si vuole non voglio che si comprenda male ma io non voglio neanche che uno viva il disagio perché il disagio ti porta a fingere e io non voglio questa finzione è la cosa più odiosa che ci possa essere se tu davanti a me vieni in un modo poi esci da casa mia e sei tu un altro ma che modo di fare sarebbe capite sarebbe un modo di fare io ti preferisco come sei così vediamo quali sono le tue problematiche e ci lavoriamo su nell'amore del Signore senza fucili puntati a canne moze senza sparare e far saltare le teste capite misericordia ci vuole il Signore quando ha incontrato i peccatori gliel'ha detto che peccavano non è che è andato a volte non è andato neanche leggero però non è che era concentrato sempre e soltanto sul peccato capite gli dava tempo di capire e di migliorarsi comunque tornando abbiamo parlato quindi dei cibi puri e impuri se ci sono domande sui cibi puri e impuri visto che stiamo parlando di cibi se ci sono problemi quindi cibi puri e impuri e quindi bisogna avere riguardi riguardi alle persone che sono deboli e magari non mangiano io questo discorso lo devo fare alle persone mature perché non riesco anche se è scritto non si riesce a dire alla persona debole come si deve comportare perché è debole non recepisce capite però la persona matura e forte recepisce più cose va bene quindi allora cosa gli dico alle persone più mature che hanno capito determinati concetti gli dico attenzione se incontri un fratello debole portagli rispetto tiene una certa considerazione valuta come cioè valuta bene la sua debolezza e risolvi il problema non mangia carne di maiale niente maiale non mangiano vino non bevono vino bevande alcoliche quel giorno lì con il musulmano non si mettono a tavola bevande alcoliche berrò domani le si berranno un altro momento non è che moriamo se un giorno noi ci sacrifichiamo o per una settimana o per quei giorni che saranno con cui abbiamo a che fare non si muore non si fa per il signore capite invece alla persona debole cosa gli si può dire attenzione gli si può dire forse tu ti senti di non bere alcoliche o di non mangiare maiale però sanno che noi li mangiamo e li beviamo non ci possono condannare il debole non può condannare colui che mangia di tutto colui che mangia di tutto non deve perdere il rispetto e diciamo sminuire colui che è debole anzi deve avere pazienza questo è il concetto importante da considerare per i cibi puri e impuri però nella scrittura se andate a leggere se andate a studiare questi argomenti sui cibi mi raccomando distingueteli quando ci sono i passi dei cibi puri e impuri si devono fare determinati ragionamenti che sono scritti e invece quando si parla di cibi sacrificati agli idoli i ragionamenti sono altri ecco affinché non si confondano le cose perché se si parla di cibo bisogna distinguere di che cosa si tratta ora leggiamo andiamo a parlare andiamo a leggere quello che ci dice Paolo in prima Corinzi capitolo 8 dove parla perché ne parla al capitolo 8 e poi ne parla ancora anche al capitolo 10 stiamo parlando di cibi sacrificati agli idoli va bene quindi qui cibi impuri non ci pensate non stiamo parlando di quelli quanto alle carni sacrificati agli idoli noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza la conoscenza gonfia ma la carità edifica se alcuno si pensa di conoscere qualcosa egli non conosce ancora come si deve conoscere ma se alcuno ama Dio esso è conosciuto da lui quanto dunque al mangiare le carni sacrificate agli idoli noi sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non c'è alcun Dio fuori d'uno solo poiché sebbene vi siano dei cosiddetti dei tanto in cielo che in terra come infatti ci sono molti dei e molti signori non di meno per noi c'è un Dio solo il Padre dal quale sono tutte le cose e noi per la gloria sua è un solo Signore Gesù Cristo mediante il quale sono tutte le cose mediante il quale siamo noi qui vorrei farvi notare qui parte con una distinzione particolare la conoscenza gonfia ma la carità edifica quindi pone subito una linea anzi una prende subito l'Apostolo Paolo dice attenzione questo argomento dei cibi sacrificati agli idoli può essere preso da due punti di vista bene due punti di vista che sono quello della carità si parla della carità verso il nostro prossimo o quello della conoscenza quali sono le caratteristiche però cosa emerge sempre dal discorso dell'Apostolo Paolo che se segui la linea della conoscenza cioè che cosa vuole dire vuole dire che l'idolo è nulla noi diciamo c'è un Dio solo ma che cosa si è sacrificato questo cibo a un altro Dio non esistono altri dei nella faccia della terra c'è un solo è vero Dio ehi non esistono quindi mangio di quel cibo capite quindi la conoscenza vedete porta anche un rigonfiamento un inorgoglirsi della persona anche se questa cosa è corretta anche se potrebbe essere corretta però il risultato non è certo sempre capite presenta le sue problematiche mentre la via da seguire è sempre quella della carità considerando quindi considerando le persone con cui abbiamo a che fare anche se noi sappiamo che lo sappiamo anche se noi sappiamo che gli idoli sono nulla quindi se mangio un cibo sacrificato agli idoli io potrei non avere problemi di coscienza uno potrebbe non sentire nulla capite perché per me gli idoli non fanno nulla allora cosa succede succede che io mangio tranquillamente ogni tipo di cibo e la scrittura me lo permetterebbe me lo permette io mangerei con conoscenza però la conoscenza cosa fa gonfia rende superbi rende orgogliosi tu ti concentri solo su te stesso ti stai concentrando solo su te stesso vedete il discorso che abbiamo fatto prima bisogna considerare gli altri più di noi stessi bisogna quindi scegliere sempre in tutto quello che andiamo a fare sempre la via della carità cioè gli altri prima di noi stessi allora cosa faccio anche se io so che cibi potrei mangiare tutti i tipi di cibi perché gli idoli non esistono cosa faccio potrei 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 mangiarli ma cosa succederebbe che gli altri rimarrebbero magari abbiamo il nostro prossimo vicino che si scandalizzerebbe quindi cosa produrremo io sono libero che ho mangiato ma il fratello si è scandalizzato quindi ho prodotto bene o ho prodotto il male essendo la mia conoscenza in quel caso cosa ha prodotto il bene o il male siamo arrivati a una cosa positiva o una cosa negativa il mio orgoglio il mio conoscere ha portato l'altro a rimanere scandalizzato per lui ci è rimasto un malissimo perché mi ha visto mangiare mangiare dei cibi sacrificati agli idoli che magari a me non mi fanno nulla però l'altro rimane scandalizzato quindi vedete bisogna fare attenzione cosa ci vuole far capire con questi passi che è preferibile qual è la linea da seguire è quella è preferibile che stiamo a te quando noi quando c'è qualcuno vicino a noi che anche se tu sai che lo puoi mangiare sappi che non lo deve mangiare il cibo sacrificati agli idoli quindi l'abbiamo visto anche in atti che i cibi sacrificati agli idoli alla fine nella conclusione di tutto anche se la conoscenza potrebbe portarci ad un'altra ad un'altra comportamento sappi che comunque il comportamento biblico giusto che devi tenere per il Signore per amore del tuo fratello è quello che i cibi sacrificati agli idoli tu non li devi mangiare se tu sai che quel cibo è un cibo sacrificati agli idoli tu non lo devi mangiare così stai tranquillo tu non non incorrerai in esso anche se tu potresti dire ma anche se lo mangio non succede nulla secondo la conoscenza che uno ha degli idoli va bene potrebbe anche andare bene però tu non lo devi mangiare lo stesso per rispetto ai fratelli che potrebbero rimanere scandalizzati quindi la linea vedete le due cose perché ha dovuto parlare così Paolo perché perché altrimenti si sarebbero creati si potevano creare degli estremi capite per evitare di creare gli estremi ad esempio prendiamo Daniele Daniele è un estremo cosa ha fatto Daniele siccome lui non ha convinto dei cibi delle carni che gli davano da mangiare voi innanzitutto dovete sapere la storia in grosso modo del profeta Daniele se non lo sapete è venuto il momento di andare a leggere quei capitoli però vi dico alcune cose che rientrano in questo discorso cioè se 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 l'Apostolo Paolo se noi lasciassimo se l'Apostolo Paolo lasciava il discorso aperto vabbè se tu vuoi mangiare ne mangia e se tu non ne vuoi mangiare non mangiare cosa si creerebbe? si creerebbe o di estremi cioè si creerebbe Daniele i Daniele i Daniele di oggi ti mangerebbero solo legumi perché non si fidano della carne di tutta la carne non si fiderebbero non andrebbero a comprare al macello direbbero no 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 io mangio solo legumi come hanno fatto come ha fatto Daniele e i suoi compagni hanno mangiato solo legumi perché non volevano contaminarsi con le carni perché temevano fossero sacrificati agli idoli capite quindi se no se Paolo non avesse fatto questo discorso comprendendo tutte e due le cose i due estremi ci sarebbero potuti essere i due estremi infatti quindi a parte l'estremo che non quelli che si ritengono più spirituali non avrebbero mangiato carne con tutte le problemi che potevano derivarne dall'altra parte poi ci sarebbero stati quelli invece che no ma io mangio di tutto mangio 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 di tutto per quanto riguarda i cibi sacrificati gli idoli qual è la conclusione quindi la conclusione qual è quindi attenzione per quanto riguarda i cibi sacrificati agli idoli dobbiamo dobbiamo sì tendere a a non mangiarli per non avere comunione anche se sappiamo che non sono nulla e dobbiamo considerare gli altri più di noi stessi ecco quindi così si risolve la situazione per non scandalizzare gli altri non si arriva a non mangiare i cibi sacrificati agli idoli però la scrittura però sempre Paolo ci dice attenzione però non facciamo non facciamo non facciamo inchieste no se se noi ci mettessimo a fare delle inchieste non mangeremo poi poi più nulla quindi bisogna bisogna capire qual è il senso migliore che ci sta dando la scrittura per poter vivere liberamente senza contravenire ai comandamenti del Signore perché su queste cose attenzione ci lavorano molte sette cioè sono molte le sette che nascono e ti dicono cosa devi mangiare quelli che ti dicono che non devi mangiare carne quelli che ti dicono che non devi mangiare carne di maiale come gli avventisti guardate bene che ce ne sono gruppi di tutti i generi di tutti i tipi quindi noi cosa dobbiamo fare dobbiamo conoscere la verità per non farci imporre delle cose che poi non sono bibliche ci farebbero solo stare male capite invece noi dobbiamo vivere liberi in Cristo Gesù cercando di osservare i comandamenti di Dio avendo riguardi per i più deboli per il nostro prossimo considerando gli altri più di noi però sempre vivendo nella libertà in Cristo che il Signore ci ha lasciato dici quindi ma non in tutte la conoscenza anzi alcuni abituati finora all'idolo mangiano di quelle carni come essendo cosa sacrificata un idolo la loro coscienza essendo debole ne è contaminata cioè qui sta dicendo non in tutti è la conoscenza abbiamo detto che qualcuno può sapere che mangiare carne e cibi in genere sacrificati agli idoli può non essere nulla però non in tutti è la conoscenza non in tutti questi se si mettono a mangiare perché vedendo te vedendo te che tu sei libero di mangiare tutto vedendo sapendo che quello è un cibo sapendolo che è un cibo sacrificato agli idoli non essendo in lui la conoscenza mangia anche lui di quel cibo magari gliel'hai profetto tu è venuto a casa tua glielo offri e la sua coscienza è contaminata si sente peccatore si sente contaminato non si sente più libero in Cristo Gesù capite quindi si producono dei danni la conoscenza può produrre dei danni la conoscenza anche della verità non la conoscenza di quante stelle di che cosa è formato un atomo o altre storie scientifiche sta parlando qui della conoscenza che comunque uno ha della verità capite la verità a volte gonfia anche conoscendo tutta la verità infatti Paolo ha detto se io conoscessi tutti i misteri se non ho carità a nulla mi giova cosa vuol dire vuol dire anche che conoscendo nella maniera sbagliata si possono produrre dei danni nella chiesa e l'abbiamo proprio vissuto in questi in questi mesi ora non è un cibo che ci farà graditi a Dio infatti chi ha conoscenza lo sa non è il cibo che ci rende graditi a Dio che tipo di cibo ecco perché quando si va a comprare al supermercato scegli roba no si sceglie la roba di qualità e non si deve andare a vedere ma questo come è nato come l'hanno ucciso quest'animale se no veramente capite non se ne uscirebbe più questo io ve lo dico insisto perché voglio viviate una vita libera seppur vi fate qualche domanda al supermercato ecco non fatevela voi davanti al Signore Signore Gesù Paolo ha detto non fate inchieste comprate di tutto quello che si vende al macello quindi non fate inchieste se voi non lo sapete che carne sacrificate agli idoli voi non potete rendere neanche conto al vostro prossimo il Signore non vi addembe a nulla nessuno può accusare che cercate comunione con i demoni capite state cercando di entrare in comunione con i demoni perché quando fanno i rituali i satanisti mangiano bevono fanno i rituali mangiano e bevono anche sangue perché cercano comunione con i loro demoni cercano di entrare in sintonia totale con i demoni capite quindi vedete è importante se un cibo è stato sacrificato agli idoli chi lo mangia sapendolo sta cercando di entrare cioè volontariamente cerca di entrare in comunione con i demoni che ci sono dietro gli idoli e quindi questo davanti al Signore non va bene anche l'uno sa non ci sono dei che gli idoli non sono nulla attenzione perché il peccato ci può essere lo stesso oltre che scandalizzare il fratello quindi vedete ci sono già più motivi che spingono al fatto che i cibi sacrificati agli idoli non vanno mangiati senza fare indagini però che altrimenti non mangeremo più nulla se mangiamo non abbiamo nulla di più ma badate che questo vostro diritto non diventi un topo per i deboli e comunque anche se tu ritieni qui ribatte cioè ribatte da una parte dice che si entra se mangi il cibo sacrificato all'idolo entri in comunione con l'idolo poi dice anche attenzione però perché il tuo mangiare inoltre non deve contaminare i deboli non deve essere di scandalo per i deboli quindi comunque sia tu tenere conto che se mangi i cibi sacrificati agli idoli stai cercando di entrare in comunione con i demoni e poi puoi scandalizzare anche gli altri quindi la conoscenza che uno aveva che gli idoli non sono nulla comincia a sgrettolarsi quindi qual è la linea giusta da tenere la linea giusta da tenere è quella che se tu sai che quelli sono cibi sacrificati agli idoli tu non devi mandare prima per non avere in comunione con i demoni secondo perché tu potresti scandalizzare gli altri anche se non ti contamina a te anche se la tua coscienza ti lascia libero sappi che se tu fai danno al debole renderai conto a Dio anche di quello quindi c'hai più motivi i cibi sacrificati agli idoli non si devono mangiare adesso ne abbiamo trovati due di motivi perché se qualcuno vede te che hai conoscenza seduto a tavola in un tempio d'idoli la sua coscienza se gli è debole non sarà incoraggiata a mangiare delle carni sacrificate agli idoli immaginatevi voi un pastore va a mangiare un tempio d'idoli ma attenzione qui magari sono di meno però immaginiamoci lì dove c'è dove ci sono i musulmani dove c'è l'induismo nell'oriente uno si mette un tempio lì tanto per lui gli idoli si mette a mangiare però poi ci sono i deboli ci sono i deboli possono rimanere scandalizzati e il signore queste cose le condanna vedete è così per la tua conoscenza perché tu è vero che gli idoli sono nulla ma per la tua conoscenza perisce il debole il fratello per il quale Cristo è morto quindi tu comunque sia anche se penseresti che quel cibo per te ti farebbe nulla non devi lo stesso mangiarlo per rispetto ad eventuali fratelli deboli che altrimenti sapendo che tu nel tuo esempio e loro invece rimanerebbero contaminati e perisce i debole capite quindi vedete come sempre nella scrittura c'è una spinta da parte del signore verso il signore spinge quelli più maturi che hanno più conoscenza che hanno una determinata esperienza li spinge a considerare sempre in modo particolare i deboli affinché nessuno perisca l'obiettivo è sempre quello che nessuno deve perire capite quindi tu anche se non mangi un cibo non fa niente sei maturo potresti mangiarlo va bene ma non lo mangi sacrificandoti tu per il fratello debole stai facendo la cosa giusta perché stai aiutando il fratello debole non lo stai scandalizzando non stai pensando solo a te stesso e questo è l'altruismo non solo pensare a determinate cose ma dare rispetto e considerazione al più debole aiutarlo ad attraversare tutti i fiumi che lui sta avendo difficoltà ad attraversare quando si cammina in bagna si possono incontrare dei ruscelli va bene dei piccoli ruscelli che magari un adulto li salta facilmente ma il bambino piccolo può non farcela quindi si bagnerebbe allora cosa fai l'adulto aiuta il piccolo a saltare quel fiumiciacolo quell'ostacolo no e così si cammina e così che si cammina nella chiesa ci sono quelli che fanno fatica a saltare certi ostacoli e bisogna aiutarli questa è la chiesa così che si lavora sull'unità e così che guardando l'altro ha bisogno è lì che si diventa un corpo unico capite cioè ci vuole impegno per diventare chiesa chiesa non è quelli che si incontrano lì per diventare chiesa vabbè si diventa nel momento in cui si nasce di nuovo ma per diventare chiesa unita di un cuore solo di pari consentimento ci vuole impegno e bisogna sapere queste cose che non bisogna bisogna andare incontro ai fratelli più deboli e aiutarli a superare ogni tipo di ostacolo tra cui questi ostacoli possono esserci anche questi cibi sacrificati agli idoli che uno dice a me gli idoli non mi dicono nulla c'è un dio solo sulla terra è quello credo che potrebbe essere anche corretto come ragionamento questa conoscenza però potrebbe portare a perire i fratelli deboli quindi attenzione ora dice peccando in tal modo contro i fratelli quindi è un peccato contro i fratelli quindi bisogna fare attenzione quando si fa qualcosa che si può scandalizzare il fratello tu stai qualsiasi tipo di scandalo tu stai peccando stai scandalizzando il fratello stai peccando contro il fratello e Dio te ne chiederà conto devi fare attenzione guai a chi scandalizza ora peccando in tal modo contro i fratelli e ferendo la loro coscienza che è debole voi peccate contro Cristo addirittura voi peccate contro Cristo perché il fratello cos'è? è il corpo di Cristo se io do da bere a un piccolo a uno di questi piccoli anche un bicchiere d'acqua è come se lo sto dando al Signore ma se sto scandalizzando questi piccoli questi deboli è come se stessi facendo un peccato contro il Signore capite? quindi bisogna bisogna fare attenzione cioè la vita in comunità è impegnativa lo so che tutti tutti voi compreso io desideriamo stare in comunità tutti insieme avere un pastore che c'ha un maestro bello come Mosè tutti contenti però è impegnativa la vita la vita in comunione con i fratelli è molto impegnativa tu devi pensare sempre a non fare alcun male al tuo fratello non devi avere gli occhi concentrato solo te stesso sui tuoi interessi sulle tue cose lo devi avere concentrato sul prossimo sugli altri capite? così bisogna fare su se stessi è solo egoismo e l'egoista in mezzo alla Chiesa non fa gopò capite? non riesce a fare gruppo l'egoista il superbo superbo l'egoista non fa gruppo c'è solo lui e gli altri sono delle cose che girano attorno a lui ma esiste solo lui formalmente l'Esa invece è un ente in cui tutti hanno la loro funzione la loro utilità tutti nessuno escluso quindi non c'è uno superiore all'altro ognuno fa la sua funzione il piede non può dire all'altro non ho bisogno di te l'orecchio non può dire la mano non ho bisogno di te capite? perché ognuno fa la sua funzione siamo grossomodo tutti utili tutti importanti nel corpo e quindi tutto non ruota attorno a uno solo ma dobbiamo considerarci per quello che siamo un corpo dei membri fanno parte di un corpo e quindi dobbiamo considerare sto bene voglio che stiano bene anche gli altri perché se stanno male gli altri poi alla fine finisce che sto male pure io capite? cioè sicuramente se io traumatizzo se io scandalizzo un fratello non è che poi me la cavo bene io capite? che il signore il signore interviene pure per per castigare quelli che non hanno quelli che peccano contro Cristo scandalizzando i deboli capite? però guardate l'Apostolo Paolo e questo è l'esempio il versetto 13 è l'esempio della carità di come Paolo si sacrificava per gli altri guardate cosa dice perciò se un cibo scandalizza il mio fratello io non mangerò più cane per non scandalizzare il mio fratello ora voi sapete Paolo ha conoscenza del fatto che lui la carne la può mangiare ma lui dice ma se questa mia libertà questa mia conoscenza porta a scandalizzare il mio fratello ma io faccio come Daniel mangio solo legumi capite? non mangerò più carne se mangiare se mangiare carne scandalizza il mio fratello io mangio solo legumi cioè lui era disposto per amore dei fratelli a sacrificarsi e non mangiare più carne anche se sapeva bene che la carne si poteva mangiare capite? e questo è il discorso di Paolo Paolo nei sentimenti non solo nelle opere nelle parole era di esempio ma lo era anche nei sentimenti e voi sapete che io vi ho sempre citato sia la condotta del parlare la conoscenza e anche i sentimenti che bisogna imbadare anche a quelli perché sono importanti anche i sentimenti noi dobbiamo fare le cose perché le sentiamo e dobbiamo avere dei sentimenti che siano buoni davanti a Dio e davanti ai fratelli i sentimenti il nostro cuore è molto importante i sentimenti che abbiamo nel nostro cuore non devono esserci sentimenti negativi anche se il mondo fa di tutto per provocarci per farci arrabbiare per farci odiare qualcuno ci fanno del male ci fanno soffrire ci attaccano ci stanno appiccicati addosso ci indiano continuamente contro minacciano di denunce minacciano in tutti i modi i malvagi perché è così ci minacciano in tutti i modi qual è l'obiettivo del diavolo? quello di turbare i nostri cuori cioè creare dei sentimenti che sono negativi cioè magari quello mi ha fatto del male allora cominci a provare un risentimento ostilità e poi diventa odio odiando poi il fratello tu lo stai uccidendo e quindi sei un peccatore davanti a Dio capite? e certi sentimenti quando prendono vita non è facile dopo da sragarli e quindi bisogna vegliare sul nostro cuore sui nostri sentimenti non fatevi prendere dai sentimenti negativi e ce ne sono alcuni molto forti non c'è solo l'odio c'è anche la gelosia c'è l'idea eh sì anche la gelosia l'invidia la differenza tra invidia e gelosia è che la gelosia è la paura che uno ha di perdere qualcosa che ha va bene quindi è geloso delle sue cose teme di perdere di solito le possiamo trovare ad esempio nelle coppie no? sposati o anche fidanzati che temendo di perdere il fidanzato o la fidanzata sentono dentro una gelosia è proprio uno spirito di gelosia che è forte chi l'ha provato sa quanto è forte e ti può portare a ragionare in maniera sbagliata ti riempie tutto l'essere e dopo ti vince e tu non ragioni più nella maniera corretta non prendi più decisioni corrette ti sta schiacciando ma è la stessa cosa con l'invidia l'invidia invece è il fastidio che uno ha nel vedere che un altro abbia determinate cose o che gli vadano bene certe cose se agli altri va bene l'invidioso soffre praticamente soffre proprio profondamente nel suo cuore perché vede quell'altro che sta prosperando che sta crescendo e c'ha delle cose che tu non hai capite quindi l'invidia è diversa dalla gelosia ma sono tutte e due dei sentimenti negativi molto forti se si se si lasciano liberi di scattare perché questi si accendono sono cose che possono accendersi l'invidia ringrazio Dio non so cosa sia mi devo dire la verità l'invidia no la gelosia si però la gelosia ci sono stati periodi della mia vita quando ero più giovane per dire molto geloso di mia moglie ho passato anche quel periodo e non era bello perché vedevi cose che non erano fantasticati adesso lo posso dire ho superato il momento maturi cresci metti ogni cosa al suo posto ma i giovani si fanno determinati errori tra cui quello anche di non riuscire a governare la non la fantasia la gelosia che si nutre poi di sospetti che adesso non hanno un motivo di esistere però ci può essere è un sentimento forte che comunque bisogna governare l'invidia per esperienza non vi posso parlare perché l'invidia io ringrazio Dio che non l'ho vista negli altri ma non l'ho tutta non l'ho neanche potuta combattere quindi non la posso passare per esperienza ma vedendola quello che vedo negli altri vedo che è veramente qualcosa che ti vince e ti fa molto male fa male a te e fa male anche a quelle persone contro cui l'invidioso si scaglia perché l'invidioso cosa fa si scaglia contro qualcuno e cerca di fargli del male cerca di togliere gli elementi che lui vorrebbe per sé questo è il concetto cioè non vuole che gli altri lo abbiano lo vuole solo per sé qui vedete i sentimenti del cuore il sentimento di Paolo quindi la scrittura ci insegna non solo le parole che ha insegnato Paolo le opere che lui ha fatto ma ci insegna anche a capire quali erano i sentimenti che muovevano l'Apostolo Paolo quindi noi se vogliamo assomigliare all'Apostolo Paolo non solo dobbiamo insegnare quello che lui insegnava ma dobbiamo comportarci come lui si comportava e provare anche i sentimenti che lui provava capite anche nei sentimenti dobbiamo assomigliarli non solo negli insegnamenti che comunque anche gli insegnamenti va bene ma non solo quelli anche le opere anche il cuore di Paolo bisogna cercare di intare vediamo dove continua sul dove continua continua al capitolo 10 per quanto riguarda sempre i cibi sacrificati agli idoli capitolo 10 leggiamo dal versetto 14 perciò cari miei fuggite l'idolatria io parlo come persone intelligenti giudicate voi di quello che dico il calice della benedizione che noi benediciamo non è egli la comunione col sangue di Cristo il pane che noi rompiamo non è egli la comunione col corpo di Cristo qui voglio fermarmi un attimo come vi ho già accennato se noi prendiamo la cena del Signore noi prendendo quei simboli noi diciamo cerchiamo di entrare in comunione entriamo in comunione con il Signore capite con il sangue e con il corpo di Cristo è questo che si fa quindi questa comunione però cercano di averla anche quelli che sacrificano dei cibi e poi li mangiano che li sacrificano agli idoli l'idolo non è nulla e li sacrificano ai demoni quindi cercano di avere comunione con questi demoni capite quindi cosa succede succede che se uno mangia dei cibi sacrificati agli idoli sta cercando comunione con quei demoni capite oppure se per lui veramente non lo contamina riesce per la sua conoscenza riesce a sentirsi libero di mangiare però deve stare attento che comunque se lo vede qualcuno può scandalizzare il debole e quindi comunque si pecca e dice siccome vi è un unico pane noi che siamo molti siamo un corpo unico perché partecipiamo tutti a quell'unico pane guardate l'israele secondo la carne quelli che mangiano i sacrifici non hanno essi comunione con l'altare qui si sta riferendo ai sacerdoti che sacrificavano gli animali certi animali e certi sacrifici gli è concesso di mangiare di quell'animale che era stato sacrificato capite quindi mangiando di quell'animale quei sacerdoti avevano comunione con l'altare che dico io dunque che la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa che un idolo sia qualcosa tutt'altro io dico che le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio or io voglio che abbiate comunione con i demoni perché abbiamo detto che se uno mangia dei cibi sacrificati agli idoli tutti cercando comunione con i demoni è così ecco che non la devi mangiare voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni o vogliamo noi provocare il Signore a gelosia siamo noi più forti di Lui quindi vedete quello che io vi avevo accennato è scritto qui cioè se noi mangiamo partecipiamo alla mensa del Signore beviamo il calice il calice del Signore cerchiamo comunione col Signore ma se noi mangiamo cibi sacrificati agli idoli cerchiamo comunione cerchiamo di avere comunione con i demoni e non bisogna averli questa comunione altrimenti provochiamo ad ira provochiamo a gelosia del Signore e questo non va bene perché ci facciamo il Dio nemico dice ancora dal versetto 23 10-23 di prima Corinzi ogni cosa è lecita ma non ogni cosa è utile ogni cosa è lecita ma non ogni cosa edifica nessuno cerchi il proprio vantaggio ma ciascuno cerchi l'altrui vedete io ve l'avevo accennato in altri punti è scritto qua nessuno cerchi il proprio vantaggio ma ciascuno cerchi l'altrui in questo concetto come va spiegato va diciamo messo in pratica nell'ambito dei cibi sacrificati agli idoli qual è il proprio vantaggio bisogna cercare l'altrui vantaggio che è quello di scandalizzare quindi io non mangio cibi sacrificati agli idoli per non scandalizzare il mio prossimo quindi cerco il vantaggio altrui vedete preferisco che il vantaggio non lo abbia io ma lo abbia quello debole capite io sono già forte sono già lo so che se mangiavo quel cibo non succedeva nulla però ho riguardo per i fratelli deboli quindi cosa faccio considero la loro vita importante non li voglio scandalizzare li considero più di me stesso e non le mangio per riguardo loro per avere riguardo di loro dice ancora mangiate di tutto quello che si vende al macello senza fare inchieste per motivo di coscienza cioè non facciamo inchieste per motivo di coscienza perché altrimenti altrimenti potrebbe succedere veramente che non possiamo mangiare più nulla e tutto uscirebbe contaminato e vivremo male vivremo la nostra vita malissima capite invece qui dice mangiate di tutto quello che si vende al macello senza fare inchieste mi sembra questo è uno di quei sul mangiare uno di quei passi risolve molti problemi le inchieste io la faccio se c'è qualche prodotto che non mi piace ma non faccio inchieste se questo è un cibo sacrificato agli idoli o no oppure quella carne se è morta soffocata oppure no non faccio queste inchieste se me lo dicono oppure se l'animale lo compro lì direttamente glielo dico guarda io ho questo pollo lo vorrei lo compro ma soltanto se tu me lo sgozzi bene me lo fai morire facendo uscire il sangue se lo fai morire così va bene altrimenti però per quanto riguarda quello che andiamo a comprare che noi andiamo a supermercato troviamo già le fettine troviamo la carne già tagliata quindi dobbiamo fare chissà quali inchieste capite perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che si accontiene se qualcuno dei non credenti vi invita qui fa proprio un caso pratico vedete vi invita e voi volete andarci mangiate di tutto quello che vi è posto davanti cioè l'Apostolo Paolo faceva anche esempi pratici perché lui aveva conoscenze anche pratiche capite cioè l'insegnamento della parola non è soltanto dire di raccontare dieci comandamenti punto e finito cioè poi devi anche dire nei casi specifici come bisogna fare ogni cosa ed è qui la difficoltà è qui che gli anziani il pastore i conduttori hanno la maggiore problematica quindi uno che dice ripete soltanto quello che sta scritto è bello bellissimo però poi è pratico come dobbiamo fare e Paolo vedete fa anche esempi pratici dice se qualcuno dei non credenti vi invita e voi volete andarci mangiate di tutto quello che vi è posto davanti senza fare inchieste per il tipo di coscienza anche lì se ci invitano a mangiare non chiedete questo cibo come è stato ammazzato l'animale a chi capite non si fanno inchieste però dice anche dice anche ma se qualcuno vi dice questa è cosa di sacrifici non ne mangiate per riguardo a colui che vi ha avvertito e per riguardo alla coscienza alla coscienza dico non tua ma di quest'altro perché come abbiamo detto infatti perché la mia libertà sarebbe la giudicata dalla coscienza altrui e se io mangio di una cosa con rendimento di grazie perché sarei biasimato per quello di cui rendo grazie sia dunque che mangiate sia che beviate sia che facciate alcun'altra cosa fate tutta la gloria di Dio non siate d'intoppo né ai giudei né ai greci né alla chiesa di Dio sì come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa non cercando l'utile mio proprio ma quello dei molti affinché siano salvati siate vedete dopo aver detto come lui si comportava dice siate miei imitatori come anch'io lo sono di che quindi qui dice non fate inchieste non fate inchieste se vi invitano a mangiare se voi darci se i non credenti ci invitano a mangiare se sono fornicatori adulteri quello che volete gli incredoli noi non li possiamo giudicare quelli li giudica Dio se ci invitano e noi vogliamo andarci ci mandare cioè non c'è un peccato andare a mangiare con i non credenti capite e se si va a mangiare dai non credenti non si fanno inchieste ma questo cibo è sacrificato agli idoli cioè non si fanno inchieste ma però dice anche il caso il caso contrario cioè noi non abbiamo fatto inchieste però se quello ti dice guarda che io questo cibo l'ho sacrificato agli idoli tu non lo devi mangiare per riguardo alla sua coscienza capite riguardo alla sua coscienza perché se ne mangi anche tu lui è fortissimo a mangiare sempre di più di quei cibi magari tu sei veramente forte spiritualmente libero hai un alichisto che lui essendo incredulo perduto perché qui lo dice se qualcuno dei non credenti vi invita quindi stiamo prendendo dei casi estremi perché si dà sodato che un credente non ti dà cibi sacrificati agli idoli quindi dobbiamo per forza prendere come esempio il non credente infatti Paolo ha preso l'esempio dei non credenti se noi mangiamo dei cibi sacrificati agli idoli stiamo fortificando il non credente a mangiarne ancora però lui avendo una coscienza debole lui perisce già è morto nei suoi peccati e peggiora di più nella sua situazione quindi avendo riguardo a quella persona che ci ha invitato e ci dice questo cibo è sacrificato agli idoli noi da quel momento non lo mangiamo e gli spiegheremo anche perché e noi approfittiamo per spiegare che obbediamo ai comandamenti del Signore e vogliamo piacere a Lui e non la comunione con i demoni si spiegherà capite questo era se ci sono domande questo era il messaggio questo era il messaggio volevo darvi leggendovi i passaggi che riguardano i cibi sacrificati agli idoli da non confondere con i cibi puri e impuri perché alcuni lo sentiti che confondono due cose sono due cose distinte e le dobbiamo prendere separate perché vi dico questo perché uno diceva che Gesù faceva tutti i cibi puri quindi potevamo mangiare di tutto quindi prendevano il passo per dire possiamo mangiare anche i cibi sacrificati agli idoli no perché quel ragionamento è valido solo per non fare più distinzione tra i cibi puri secondo la legge e i cibi impuri secondo la legge capite quello ma i cibi sacrificati agli idoli invece bisogna considerare altre cose che sono quelle che abbiamo letto e abbiamo considerato oggi e questo era quello che volevo trasmettervi un po' Grazie.